Grazie. L'occasione è il libro di Matteo Stilnovo, l'idea, la storia di Firenze, mettere al centro le nostre città, le nostre comunità, per rinnovare la politica. Grazie Matteo. Grazie Matteo. Grazie a tutti. 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 perdonati, offendendosi e insultando sulle cose più piccole, più infime. È l'idea di un uomo che riesce a uscire da quella immagine, da quel cliché nel quale l'abbiamo confinato. Noi abbiamo l'idea di Dante come un personaggio un po' triste, austero, ci ha rovinato la scuola sotto questo profilo, ma Dante come un uomo coraggioso che non ha paura a mettersi contro il papato, quando mettersi contro il papato significa mettersi contro persone importanti e ricorderete tutto il tema di Bonifacio VIII e non solo di Bonifacio VIII, o ancora Dante come una persona di qualità che appena arriva nel Palazzo dei Priori e ancora non è Palazzo Vecchio, quando diventa un priore di Firenze non fa fatica a mandare in misilio anche ai suoi amici perché ritiene più importante la giustizia. Allora, gli esempi potrebbero continuare. Questo libro che ha ricevuto un sacco di struncature, quello dico subito, quindi se volete un suggerimento, se guardate quello che ha scritto ieri sono le 24 ore, non compratelo perché è un libro che qualcuno ha anche detto, dice ma chissà se l'ha scritto lui, c'è troppe cose, quindi forse non l'ha scritto lui, poi mi dice no, fa proprio schifo che l'ha scritto lui, quindi è proprio un libro che rappresenta nel bene e nel male quello che io penso della mia città. L'emozione che provo quando vedo un'immagine della mia città, pensate a quella torre, la torre d'Arnoffo, che per me è un luogo di governo, cioè noi abbiamo riaperto, anzi abbiamo aperto per la prima volta nella storia il 24 giugno di quest'anno la torre per i visitatori, ma è la torre in cui viene imprigionato Savonarola, per esempio, e Savonarola passerà lì le ultime ore in quello che definisce l'alberghettino, o c'era stato prima Cosimo, padre e padre, che invece ne uscirà vivo, cioè ne uscirà senza la condanna a morte. È un palazzo vecchio che per me oggi vuol dire tentare di fare il sindaco, e cioè, per esempio, dal punto di vista del palazzo, raddoppiare gli spazi museali, oppure pedonalizzare Piazza del Duomo, o cercare di avere un piano strutturale a volumizzare, o rimettere a posto i giardini per cui a dieci minuti a piedi dalla casa di ciascun fiorentino possa esserci un giardino e una piazza. Insomma, io devo fare il sindaco, però trovo nel passato tanti elementi per ragionare sulla politica di oggi. E allora qui vengo al dunque. O meglio, iniziamo a entrare nel merito della discussione anche del libro. La parola rottamazione, per me, non è l'idea chi se ne frega del passato, non consideriamolo nemmeno, o, peggio ancora, tutte le persone anziane non hanno diritto di far politica, anzi. No, io sono d'accordo, signor Presidente. Io dico che, a me è successo, voi immaginate un centro anziane di Firenze, centro storico della città, San Frediano, due ex calcianti del calcio storico, ottantenni ma con un fisico che se mi pigliano mi fanno fare due giri di campo soltanto come una trottola. Dice, te tu saresti quello che ci vuole rottamare a noi? Allora gli spieghi che cos'è la rottamazione. La rottamazione è l'idea molto semplice e banale che chi è stato in Parlamento per vent'anni, per quindici anni, per tre mandati, come dice tra l'altro lo strutto del mio partito, non può pensare di stare lì appiccicato alla seggiola, attaccato con la colla, ma deve farci la parte, che non vuol dire, che non vuol dire, attenzione, non considerare il passato come anche una fonte di ispirazione, ma vuol dire affermare l'esigenza naturale di un ricambio. Dice, ma la parola rottamazione è volgare, può venirlo in politichesi. Noi riteniamo che ci sia bisogno di un fisiologico ricambio al termine del quale la classe dirigente possa vedere mutati i propri rappresentanti in una dinamica di impatto generazionale per la quale chi sta al suo posto lascia lo spazio ad altri. Potrei dirla così. Uno si perde il terzo verbo e dice, ma dove è la virgola, ma si dimentica l'essenza. L'essenza è che la rottamazione che noi proponiamo è l'idea come un sindaco al massimo può fare due mandati, così per un parlamentare al massimo esagerare tre mandati. Perché? Perché intorno a noi il mondo cambia. Intorno a noi il mondo sta cambiando, è una velocità impressionante. Pensate agli ultimi vent'anni. Dove eravate voi nel 1992-94, quando peraltro già stava in Parlamento la stragrande maggioranza dell'attuale classe dirigente? Perché questo tema del ricambiare, cambiare anche la classe dirigente è molto importante. Se ci pensate, se voi siete stati scritti, faccio un esempio, siete ancora scritti al PD che è il mio partito. Magari venite, che so, prima dal PDS. Poi avete perso la P e siete diventati DS. Poi vi hanno ridato la P ma vi hanno elevato la S, PD. Avete cambiato gli animali e i simboli. Se eravate dei democratici avevate l'asinello. Poi potevate prendere la margherita, poi la guercia, poi l'ulivo. Abbiamo deforestato e ucciso mezzozzo. C'è un'unica cosa che è rimasta sempre uguale. Le facce dei leader, che sono sempre gli stessi. Allora, il punto centrale. Pensiamo a dove eravamo uno. Vent'anni fa ascoltavamo musica in modo diverso, non soltanto i gruppi musicali, ma anche la musica. Non c'era il... Chi vent'anni fa aveva in cassetta, in macchina il mangianastri? Noi alle prime fidanzatine mandavamo le cassette. Era una cosa assolutamente illegale quella di ascoltare le canzoni, registrarle e regalare la cassetta a 46 minuti o 90 minuti, quello che era. Oggi c'è i lettori digitali. Le macchine fotografiche, la Kodak e la Polaroid hanno avuto grande storia tra di loro. Erano macchine profondamente diverse da oggi. Oggi c'è la macchina digitale. Il telefonino! Avevamo, negli anni 90 iniziavano ad arrivare i telefonini, quelli che si portavano dietro, che ti veniva la sciatica soltanto a guardarli, ricordate come erano i primi telefonini. Oggi il telefonino ti fa anche il caffè se hai la funzione incorporata, li metti lì. Bene, tutto il mondo intorno a noi è cambiato ed è cambiata la dimensione delle relazioni sociali, umane. Io penso che debba cambiare anche la risposta della politica. Ecco che lo stil nuovo significa non soltanto rottamare le storie di chi è in Parlamento da avventare, ma anche le idee. Perché proviamo a immaginare, ecco facciamo questo esperimento. Non raccontiamo chi vogliamo rottamare. Quello l'abbiamo già detto. I D'Alema, i Berlusconi, i Fini, i Marini, quelle persone che da tanti anni sono in Parlamento. Ciascuno ci mette il nome che vuole. Non si tratta di fare una politica personale. Quelli che dice hai fatto un grande servizio? Bene. Hai dato tanto al tuo paese? Bene. Adesso anche basta. Non ti preoccupare. Ti riposo che serve la mente. Quello che serve a noi è quali sono le idee che vanno cambiate? Mettiamole in fila. Proviamo a raccontare quali sono le cose su cui provare a restituire fiducia al paese. Perché ve lo dico subito, mi prenderete per matto, ma io sono uno di quelli che vuole bene alla politica. Vedo laggiù una signora che sta perplessa, che sta chiamando il 118, mi firmeranno un trattamento sanitario obbligatorio, non mi interessa. Io credo che la politica sia una cosa seria. Io non mi voglio vergognare di andare nelle scuole il martedì mattina da sindaco e di dire ai bambini, il mio mestiere protempore per un po' di anni è la politica. Perché è una cosa bella, degna di lode e di onore. Perché si faccia bene. Ragioniamo di che cosa va cambiato. Prima cosa. Bisogna fare i sacrifici, è vero. Perché siamo in una fase difficile. Mi piacerebbe ragionare in modo il più possibile semplice, senza fare troppi giri di parole politichese della situazione economica che stiamo vivendo. Ve la dico male, mi perdonerete la sintesi con l'accetta. Noi siamo un paese che ha visto i nonni farsi carico a livello privato di aiutare i nipoti. c'è chi di voi ha, non soltanto, signora, lei ormai siamo fidanzati e lei è la prima, c'è una messa per i classi qui, facciamo l'esempio. Chi di voi qui ha i capelli bianchi sa perfettamente che non soltanto dà una mano in famiglia per il nipote, per l'asilo nido, per sistemare, non so tanto per quello, ma anche perché nel corso degli anni chi di voi ha i capelli bianchi si è preoccupato di riuscire per quanto possibile a lasciare ai propri figli e ai figli dei propri figli innanzitutto un patrimonio di valori non economico, ma un patrimonio di valori ideali e poi un patrimonio anche di valori, la casa, dove è possibile perché no una casa al mare, in ogni caso un po' di soldi da parte, cioè chi ha i capelli bianchi ha lavorato per tutta una vita in un momento di crescita economica per dire lascia qualcosa, poi ne faranno l'uso che creeranno. Questo atteggiamento ha portato l'Italia ad essere diciamocelo ogni tanto, il paese occidentale con la più alta ricchezza pro capite privata. Cioè quando vi dicono l'Italia in crisi dico una cosa sacrosanta, ma parlano della situazione patrimoniale pubblica. La situazione privata degli italiani è che in particolar modo partendo dal presupposto della casa, sia per chi come me ha un muso, ma chi invece l'uso l'ha già finito di pagare, partiamo dall'idea che il punto di partenza di tutto sia la casa e poi una serie di altri patrimoni. Però la stessa generazione che ha visto i nonni far bene il proprio lavoro dal punto di vista privato, ha anche, scusate se ve la dico un po' con l'accetta ma per rendere l'idea, ha anche contribuito a creare la situazione di peggior debito pubblico d'Europa. Cioè l'atteggiamento da formichine che è stato utilizzato nel privato non è stato utilizzato nel pubblico. Non è sempre così, in America sono meno indebitati sul pubblico, però sono molto indebitati sul privato, per esempio. O la ricchezza privata della Francia e della Germania non è alla pari di quella dell'Italia per capite. Ma le generazioni che sono state in Parlamento hanno alzato il debito pubblico, cioè hanno speso anche ciò che non avevano, hanno utilizzato, fatemela dire così, il futuro come una grande discarica dove mandare i problemi che tanto loro non avrebbero visto. Che è un atteggiamento, lasciatemelo dire, folle, ingiusto, perché rinvii il problema per chi poi dovrà fare dei conti. Oggi abbiamo il 123% di debito pubblico sul PIL ed è come dire che quelli che stavano in Parlamento sono andati al ristorante e hanno lasciato da pagare a quelli dopo. Allora, se vogliamo fare i sacrifici e dobbiamo fare i sacrifici, poi cercheremo di dire come, bisogna avere il coraggio di dire che per primi i sacrifici li devono fare i politici, partendo da che cosa? Da un principio molto semplice, quello di dire basta anche basta, come io faccio delle proposte nel libro. Oh, i fiorentini, chi legge il libro lo vede, in termini di istituzioni democratiche, antidemocratiche, se le intendevano, hanno fatto una confusione. Come dice Indro Montanelli nei suoi libri, il loro obiettivo non era governare, ma era far sì che l'altro non governasse e quindi c'erano tutta una serie di istituzioni giuridiche che vi risparmiano. Però non è che fossero molto meno complicate della nostra situazione di oggi, dove noi abbiamo il comune, il quartiere o la circoscrizione, la provincia, la regione, il consorzio di bonifica, l'autorità d'ambito, la comunità montana che spesso arriva sul mare, meno male non c'è la comunità marina che arriva in montagna, lo Stato, l'Unione Europea, l'Unione Europea che ci dice tutto di come deve essere fatto il pomodoro, tutto di come deve essere fatto magari anche la piadina, però si dimentica di dirci che cosa pensa della Siria, che cosa pensa dei ragazzi che muoiono in Mediterraneo, ma questa situazione qui è una situazione che va disboscata, bisogna iniziare a semplificare, bisogna iniziare a dire che mille parlamentari sono troppi e bisogna superare il bicameralismo perfetto di oggi, quindi 500 deputati che fanno il proprio mestiere e poi un senato delle autonomie, non di eletti o meglio di eletti di secondo grado, amministratori, sindaci e presidenti di regione, con, so che è detta così, metà parlamento a metà prezzo, sembra lo slogan del discount, ma con un segnale immediato di abbassamento delle indennità, perché? Perché il primo segnale va dato noi, io quando vado in televisione a dire dimezzare il numero dei parlamentari, mi guarda e mi dico, tutti uguali voi, dite tutti la stessa cosa, ecco io ho dimezzato il numero degli assessori, che tra di noi a Firenze non hanno gradito, ma è complessibilmente, però era per dare un segnale immediato, ho eliminato le auto blues per questo, ho fatto uno sforzo per cercare di dimostrare concretamente di ridurre gli affitti da 8 milioni a 1 milione e 500 mila euro, perché? Perché dovevo dare il segnale per primo io, ma accanto al segnale che do io, credo che sia giusto dire la casta dia un primo segnale, vi faccio l'ultimo esempio e poi entriamo nel merito delle proposte, se tu, io sono uno di quelli, magari perdo dei voti, è qui, quindi ve lo dico subito per correttezza, io sono uno di quelli che dice che secondo lui è giusto fare, aver fatto una riforma delle pensioni, perché? Perché l'età media si sta allungando, si può discutere di come è stata fatta, ovviamente, però il principio è che se tu hai oggi un'età media che si allunga, diceva Woody Allen, invecchiare non è granché, ma è sempre meglio che l'alternativa e quindi è naturale che via via che cresce l'età media dovrai fare degli interventi perché non si possa andare in pensione a 50 anni, chi andava in pensione a 50 anni, mica l'olpa sua, ha utilizzato una legge che gli overmetteva, quindi è giusto che la legge cambi, però è più credibile una classe dirigente che cambia la regola delle pensioni, quindi io non cerco voti, demagogici, ah le pensioni, no, no, io sono per la riforma delle pensioni, però è più credibile una classe dirigente che fa la riforma delle pensioni dopo aver eliminato il vitalizio per i consiglieri regionali e parlamentari, perché il vitalizio è il segno di che cosa? Che tu vai in Parlamento e in Consiglio regionale e hai una sorta di jolly, giochi in bonus, giochi in dope, non vale, non vale, anche perché per la mia generazione la pensione è un alberghietto a due stelle che si trova, non è un obiettivo realmente raggiungibile, per lo meno per il momento. Allora, se vale questo principio, e di lotte contro le caste nella storia di Firenze ce ne sono state tante, i cionpi, Savonarola, non tutto è andato a finire bene, anzi è quello che ho citato decisamente male direi, però se vale questo principio noi dobbiamo avere il coraggio di entrare poi nel merito della discussione davvero. Io penso che vanno rottamate alcune idee di fondo. Abbiamo il debito pubblico alto? Sì. Come si fa a uscire da questa situazione che è la principale? Qual è l'idea che va rottamata? Secondo me va rottamata l'idea che un paese risolva il problema del debito semplicemente ricontrattando il debito o consolidando il debito, semplicemente aumentando le tasse. Cioè, tu hai una sorta di slot machine, ma tutte le volte quando non si sa come fare si alza le tasse. E oggi hai una pressione fiscale cui corrispondono servizi non necessariamente negativi, perché la sanità dell'Emilia Romagna o la sanità della Toscana, io non ho difficoltà a dire che ha delle punte di straordinaria qualità. Bene? Quindi non è vero come viene detto che tutti i servizi fanno schifo. Non è vero. Certo ci sono delle cose che possono essere migliorate nella fronaca, però sto dicendo una cosa banale. Però non è accettabile l'idea che talvolta anche una parte del mio schieramento, ma anche degli altri hanno dimostrato di fare così, dove semplicemente si alza le tasse. Perché questo? Perché noi siamo al limite. Quando un'impresa lavora fino al 30 di luglio per pagare le tasse, vuol dire che non funziona più niente, vuol dire che si è rotto il giochino. Quando un lavoratore dipendente guarda la lista di quelli che dichiarano e vede che lui paga sempre che lavoratore dipendente, ma poi c'è chi fa il furbo, è chiaro che non ci si fa più. È chiaro che se io ti metto 2.500 euro in busta, ma poi te ne entrano in casa 1.200, 1.300, c'è qualcosa che non funziona. L'altro giorno c'era il capo degli imprenditori a Firenze, Squinzi, c'era l'assemblea di Confindustria e io ho fatto una proposta. Scusate, voi avete 40 miliardi di contributi alle imprese. Poi in realtà avete visto che Giavazzi ha fatto una proposta per 10 miliardi di questi 40, ma lasciate stare. Siete disponibili a prendere 10 miliardi, 20 miliardi di questa proposta che le avevo fatto io e che sta nel libro e dire che questi 20 miliardi li mettiamo immediatamente come sgravio, non nel cuneo fiscale delle imprese, ma in busta paga a chi prende meno di 1.800 euro netti al mese? Perché questo aiuterebbe a fare che cosa? A alimentare la domanda interna. Signori, qual è il punto drammatico che noi stiamo vivendo in questo momento? E' che, come dice il momento Berigna a Firenze in questi giorni, non è che noi usciamo dall'euro, è che l'euro è uscito da noi e non ci torna. Nel senso che il livello di possibilità... No, signor, non ho parlato di nessuno, è piacere, veramente la cosa su quando questa non era la pagina. Quando tu hai una situazione in cui l'SVG testimonia che nel 2000 il 32% di persone si riteneva a certo medio e nel 2012 questa percentuale è scesa di mezzata secca al 36% è il segno che è passato un meccanismo in cui la gente non sente più di avere la possibilità di investire. E dobbiamo arrivare in questa, in questa chiave di sviluppo, ma non aumentando le classi ancora una volta, perché poi gli italiani sono persone per bene. Gli italiani, l'Imu, l'hanno pagata. Mi spieghi tutti i suoi giornali. Oh, le previsioni dell'Imu vengono confermate. Perché gli italiani sono persone seri, che che se ne dica, gli italiani sono persone seri. C'era qualche statista in camicia verde che dopo aver preso l'ampolla del diopodo per forse c'era la cappa ha detto, non pagate, sciopero dell'Imu, dimenticando che quella Imu è stata imposta da Calderoghi, ma quello non è un problema, sono cose che capitano, non ascoltarsi le... Ma quello che io segnalo è che se l'Imu è stata pagata, è altrettanto evidente che l'IVA, quando è stata aumentata, non ha portato ad un aumento significativo di gentile. Perché? Perché più alzi le tasse e più contrai il mercato interno. Allora, l'idea di uscire da questo giochino per cui basta aumentare le tasse e siamo tutti tranquilli, non può funzionare. Dice, ma te che cosa propone? Innanzitutto io porto la mia esperienza, sindaco di Firenze, Firenze, lo avete visto ieri forse sui quotidiani, è l'unica città che ha abbassato l'addizionale IRPEF. Sapete che ogni comune ha l'addizionale IRPEF, la nostra adesso è abbassata nelle grandi città, ma l'abbiamo abbassata per dare un segnale in controtendenza, abbiamo fatto dei risparmi da altre parti, abbiamo però abbassato questo tipo di voce per dare un primo segnale. Ma contemporaneamente è chiaro che bisogna fare due investimenti. Uno, quello che ha fatto è quello su una lotta all'evasione vera. La lotta all'evasione non è soltanto stare fuori da un bagno e chiedere la ricevuta fiscale, per carità è importante, tutto fa brono, ma è soprattutto quello di non prendersi in giro. Oggi la lotta all'evasione fiscale la fai assumendo 10 hackers, 10 smanettoni con i computer, molto più che non con grandi discorsi. tu puoi trovare di tutto con l'incrocio dei dati. Perché al giorno d'oggi, fra il telefonino, i 7 stoppi stanno dicendo una cosa quasi da grande fratello, ma si sa tutto di tutti. E' possibile che non si riesca a incrociare i dati e le banche dati? Per andare a recuperare l'IRS, che è l'istituto americano di lotta all'evasione fiscale, ha 100.000 persone che lavorano. Noi tra agenziale dell'entrata e guardia di finanza siamo 105.000. L'IRS ha un recupero fiscale di 50 miliardi di dollari l'anno. Voi sapete che lì l'evasione fiscale viene sanzionata in modo molto più forte che da noi. Le mettono in galera davvero. E che noi facciamo un recupero di accertato, quindi teorico, di 11 miliardi. Cinque volte tanto più gli americani. E' mai possibile che con le stesse persone noi facciamo cinque volte meno di loro, che hanno anche delle sanzioni più dure e quindi tendenzialmente saranno incoraggiate a non farlo. Quindi lotta vera IS ispirata al modello italiano, o meglio il contrario, strumenti come quelli che funzionano in altre parti del mondo e contemporaneamente però l'indicazione di una prospettiva di sviluppo. Insomma, se voi andate in banca e chiedete di consolidare il debito, non è che vi dicono oh, fammi capire come consolidi il debito. Ti chiedono il piano industriale, ti chiedono che cosa pensi di fare nei prossimi anni, cosa pensa di fare l'Italia per i prossimi anni. Va rottamata per esempio l'idea che l'Europa sia soltanto dei banchieri. Per cosa è nata l'Europa? L'Europa è nata perché c'è stata una generazione di statisti che ha capito che quel luogo, che quel continente era il continente fratricida per eccellenza. Oh mio nonno è andato in Francia a farci la guerra, non a fare discorsi. Mio figlio ci va a fare l'Erasmus, ci andrà a fare l'Erasmus, ma mio nonno ci ha fatto la guerra e non sto parlando di 20 generazioni fa. Che cosa è accaduto? E' accaduto che partendo da cose concrete, ricorderete la comunità economica del carbone e dell'acciaio, l'Europa è diventata il luogo nel quale potessimo creare un'identità comune, piano piano. Poi siamo arrivati alla moneta unica. Ora questo ragionamento viene messo in discussione perché si perde l'occasione di fare il passaggio in più dopo avere l'euro in comune, avere anche le istituzioni in comune, l'elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea, dare alla Banca Centrale Europea gli stessi tuteli della Federal Reserve, avere un servizio civile europeo per cui mio figlio possa condividere alcuni valori di fondo. Questo è un grande tema per la politica, che non è soltanto sapere lo spread a quanto va sulla base delle indicazioni delle ultime burocrati centrali o meno dell'Unione Europea. Occorre avere il coraggio di dire che la sfida che abbiamo di fronte oggi non è soltanto quella tra una moneta unica in un certo modo, ma è la prospettiva di sviluppo. Vogliamo continuare su un sentiero di pace che dura da 70 anni? O vogliamo tornare invece a fare dei passi indietro rispetto all'integrazione europea? E verrottamata ancora l'idea che si possa fare sviluppo il piano industriale dell'Italia soltanto facendo grandi opere pubbliche. Figuriamoci se le grandi opere pubbliche non vanno fatte, anche se vi confesso che un po' di sorriso ironico mi è venuto quando l'altro giorno su Wild ho letto che la sonda Curiosity, lo straordinaria occasione che la NASA ha messo in piedi per andare su Marte, è costata meno della Reggio Calabria e per lo meno Curiosity funziona. È l'idea cioè che le grandi opere in Italia non possono costare quello che costano. Pensate che da noi l'alta velocità è questa da tre volte che la Spagna, le autostrade due volte che la Germania. non è possibile, è un meccanismo da cambiare, però per cambiare le grandi opere occorre avere un meccanismo di gestione delle stesse totalmente diverso. È ragionale se le grandi opere di oggi siano come è stato il treno nel 1800 e la autostrada del 1900 o sia qualcosa di diverso. Io credo che le grandi opere necessarie al paese siano sicuramente le autostrade informatiche, tecnologiche, ma anche un'autostrada basata sul principio, un'infrastruttura basata sul principio, per cui cos'è che ci caratterizza? Il benessere, lo stare bene, ma non è soltanto un fatto economico, è consentire ad esempio a un bambino di avere un'educazione all'altezza dei suoi sogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se l'agenda di Lisbona, di Unione Europea, ci dice che il 33% dei bambini devono andare all'asilo rido, secondo il principio che sta dentro la strategia di Lisbona, è mai possibile che in Italia siamo al 12,8%. Perché guardate, un bambino che non va all'asilo nido è un'occasione persa per lui dal punto di vista pedagogico. Ci sono libri, insigni, di studiosi, di professionisti che spiegano come l'asilo nido e la scuola materna siano una grande occasione pedagogica ed educativa per il bambino. Ma accanto a questo, diciamoci la verità, c'è anche una mamma che non torna a fare il proprio lavoro, in una cornice nella quale sempre di più si tende a negare la possibilità di conciliare maternità e professionalità. vorrei dirvi che a 37 anni, la mia età, Marissa è diventata una star, perché lei ha iniziato a lavorare a Google, Google tra parentesi è stata fatta nel 97, quando la grande maggioranza dei ministri e dei parlamentari di oggi c'era già sulla breccia. E poi, questa è la faccia di Marissa, anche una bella ragazza, lavorava prima, è diventata amministratrice delegata di IACU. Sapete perché ha fatto notizia a Marissa? Perché l'hanno assunta come amministratrice delegata di IACU, nonostante che fosse incinta. 37 anni, non hanno considerato il fatto che fosse incinta, anzi, l'ho detto benissimo, ci fa piacere. In Italia ancora funziona un meccanismo per il quale a molte donne viene richiesto di firmare in bianco un contratto di dimissioni nel caso in cui rimangano incinta. È o non è un attimo di incidità? Allora, l'infrastruttura da cui mi partire, sono la scuola in Welfare, l'organizzazione di un sistema per il quale farsi carico l'uno degli altri, che è un principio per un sindaco molto vero. Il sindaco è il primo cittadino, si dice. A me piace l'idea di considerare il sindaco come l'ultimo cittadino, come quello che spenge la luce la sera della città, ovviamente è un'immagine metaforica. Il sindaco è quello che si rende conto che c'è bisogno di un associazionismo forte perché la più grande forma di degrado delle nostre città non è soltanto una strada poco pulita, che certo è degradante, o una situazione di un quartiere che non funziona, che certo è degradante, ma il degrado più grande, la forma di degrado più assurda da combattere oggi è la solitudine, la solitudine degli anziani che vengono abbandonati, lasciati soli, la solitudine dei ragazzi che non hanno luoghi di riferimento, siamo pieni di amicizie virtuali su Facebook, ma talvolta ci fa fatica o non riusciamo, non abbiamo la possibilità di avere delle agenzie educative vere, dei confronti veri, reali. Questo tema è il punto di partenza di una comunità che naturalmente deve essere in grado di continuare a scommettere su quello che ha sempre fatto il capitale umano. la Firenze di Leonardo o di Michelangelo, la Firenze dove la bottega è il luogo nel quale si cerca di superare il maestro, Cristo è quel discepolo che non surpassa il suo maestro, Leonardo da Vinci, perché quella era l'era dell'ammirazione, non dell'invidia come oggi, non della preoccupazione. Bene, quell'Italia lì è un'Italia che ce la può fare se prova a giocare senza paura la carta delle novità. Io so di essere molto accusato anche all'interno del mio schieramento perché dico alcune cose che magari non tutti condividono. Per me essere di sinistra oggi significa tornare a credere nel fatto che il domani non sia una minaccia. Noi abbiamo una visione molto da pronto soccorso, la politica come luogo c'è un problema se arriva. In realtà essere progressisti, chiamatela come vi pare, poi naturalmente ciascuno è affezionato alle etichette per quello che valgono, ma significa dire che il domani si costituisce un'incognita, ma il domani è il luogo nel quale vogliamo andare a testa alta, senza paura, cercando di costruire davvero le condizioni perché si possa stare meglio. E da questo punto di vista non considerare il domani come una minaccia significa che quando trovi di fronte a una difficoltà non hai paura a superare il muro o a batterlo, non hai paura di aprire un sentiero nuovo, non hai paura di aprire una strada nuova. È chiaro che per farlo occorre non prendersi troppo sul serio, non pensare di essere unti dal Signore o qualcosa del genere. Non ci salverà un supereroe, poi chiuderò proprio su questo, ma non ci salverà l'idea di uno che da solo ha la bacchetta magica. Ma soprattutto dovremmo essere capaci anche di sorridere, essere capaci di presentare la prospettiva che si apre in modo concreto, chiaro, ma anche con un sorriso. Si diceva, ah, questa storia del sorriso, Matteo, no, non la vogliamo sentire. Per vent'anni abbiamo avuto governanti che hanno sorriso anche troppo. Però io vorrei che noi evitassimo l'atteggiamento di chi, non lo faccio vedere che da lassù non si vede, quindi Franco non fa vedere il video perché era uno dei video che avevamo preparato, ma poi li risparmiamo perché è troppo lontano da giù. Dobbiamo portarci dietro proiettori più grandi visto quante persone ci sono, ma che è l'atteggiamento che forse ricorderete di Troisi, il non ci resta che piangere. Vi ricordate la scena in cui arriva il frate e dice a Troisi, ricordati che devi morire? Non me lo segno. E poi gli dice, ricordati che devi morire? Non me lo segno. E alla terza volta gli dice, ricordati che devi... Troisi fa, non me lo segno, perché è l'idea che non si possa raccontare soltanto ciò che non va. Per farlo bisogna anche essere però capaci di credibilità, di coerenza, di presentare delle proposte nelle quali questo paese si possa riconoscere. Per esempio, se io ho un sistema amministrativo fermo alla logica del timbro, dove la pubblica amministrazione è vista come un ostacolo, un nemico, non andiamo da nessuna parte, bisogna passare al timbro, al click. Noi abbiamo fatto primo Comune d'Italia all'open government totale. Cioè i cittadini hanno sul sito tutto ciò che il Comune spende, compreso i centesimi, per poter dire questo mi sta bene, questo no, non mi sta bene, manda a casa il Sindaco la prossima volta. Ma la chiarezza totale, trasparenza totale. E questo sistema di deburocratizzazione e di trasparenza non serve soltanto al processo decisionale, ma serve anche al meccanismo per cui uno ti possa dire sì o no. Ero a cena due mesi fa con un'importante banca mondiale che aveva fatto un convegno a Firenze e aveva messo, aveva invitato il Sindaco, io ero andato volentieri a questa cena, c'erano 100 investitori. Quando mi hanno spiegato che quello accanto a me era un signore che gestiva un fondo da 30 miliardi di dollari, ho detto aspetta un attimino, mi sono da rifare il teatro, insomma le cose che mi sono messo lì. Io non l'avevo considerato molto, hai Steve, hai Matteo. Poi quando mi hanno spiegato, guarda Matteo, hai capito chi è Steve, ho detto fermoni, torno da Steve. E sono tornato da Steve a ragionare con Steve perché Steve mi stava a cuore. Sapete che quando gli ho chiesto, ma tu che cosa vuoi per investire a Firenze in Italia? Contributi? No. Infrastrutture? No. Taglia la burocrazia se vuoi che io investa in Italia. rendi la giustizia civile non un paese al 126esimo posto con il Gabon, e mi scuso con il Gabon per l'accostamento, come oggi. Un paese che ha il 25esimo posto su 34 dell'Ocse per l'innovazione tecnologica. fai cose concrete per cui se io ho quel fondo lì, so che in tre mesi mi dici sì o no. Io non discuto se sia giusto o no che si comprino 12 miliardi di caccia a bombardieri. Anzi, per me non è giusto, ma questa è una storia che riguarda un'idea di esercito europeo, di... Io ho un'idea mia su questo tema per cui non sono d'accordo con questa scelta del governo. Ma trovo ancora più allucinante che nella mia città, e varrà per tutta Italia, immagino, ci siano 11 caserme. 11, vuote, che potrebbero essere l'albergo, il luogo del social housing, delle case per le giovani coppie, per riportare le famiglie a stare in centro a dei prezzi degni di questo nome, di affitti per studenti che non fossero affitti in nero, come accade in larga parte della città, purtroppo. Di avere dei luoghi dove 11 caserme senza mettere un mattone in più, perché siamo teorici del volume zero, cioè quello che c'è basta e avanza, non si costruisce ancora. Si mantengono gli spazi verdi, non si va a costruire ancora a Firenze. Questa è la prima regola che ci siamo dato. Però ci sono 11 caserme vuote. E' nessuno che muove un dito a livello centrale per darci la possibilità. E poi si dice ma le mettiamo in un fondo. Non le metterai mai in un fondo se prima non consenti a chi deve gestire la burocrazia di dire che in tre mesi se vuoi farci l'albergo ce lo puoi fare. Invece oggi che succede? In tre mesi arrivi e dici di che fai l'albergo, o le case, poi arrivano i vigili del fuoco, danno le prescrizioni. C'è una cosa che si chiama conferenza dei servizi, una sorta di terapia di gruppo di alcolisti anti-amministratori anonimi dove ci ritroviamo tutti noi, 28, e ciascuno dice il suo pezzo di problema e poi alla fine si rinvia a un tavolo a una commissione di lavoro. Perché guardate, bisogna conoscere le cose dall'interno. Io ho grande stima dei tecnici e dei professori, ma i principali tecnici sono i comuni che i sindaci, gli amministratori che in questi anni hanno dovuto fare i conti con i problemi reali. Bene, se noi siamo capaci di raccontare una storia credibile, dobbiamo avere il coraggio di rottamare non solo le facce, ma anche certe idee del passato che non funzionano proprio. Si può fare? Io credo di sì. Io credo che, io parlo per il mio partito, per il mio schieramento, so che sono molto contestato anche per il mio schieramento, perché ad esempio ho scelto due anni fa, e ancora me la fanno pagare, di andare ad Arcore a incontrare il Presidente del Consiglio che mi aveva telefonato per una vicenda legata ai rifiuti. Non rida, perché non era cena, era a pranzo. Le rifiuti sono subito partono. Musconi, come governante, non era granché. Come su queste cose c'era un po' di visto fisico. Giù l'ho detto, i denti lo chiamo a pranzo perché a cena va bene. Mi è stata contestata questa cosa. Perché? Perché è naturale che il rottamatore che va a pranzo da rottamando lo lascia subito immaginare chissà che cosa. Poi sai, fossimo in un paese normale, o anche se fossimo in Italia trent'anni fa, dove i politici e la gente seria, perché tu magari eri comunista, no? Però vedevi Aldo Moro e dicevi, caspita, io non lo voterò mai. Però è un uomo degli onore, è un onorevole nel senso tecnico del tenere. Tu magari eri democristiano, però vedevi Enrico Berlinguer e dicevi, io non l'ho voto ma questa è una persona degna di onore, è un onorevole. Perché era normale avere rispetto e stima, anche per te in alto caso. Oggi vedi Scilipofi che non è che hai rispetto e stima. E' così, è un draco di fatto. Allora è naturale che in questa cornice, tra l'altro sarebbe interessante discutere anche di come questa legge elettorale allucinante consente di entrare in Parlamento, perché se io vi dicessi adesso che Scilipofi è stato eletto con la lista di Pietro, non ci crede nessuno, ma è così. Scilipofi è in Parlamento grazie a Di Pietro, che in teoria sarebbe il principale avversario di Berlusconi. E' l'idea di un meccanismo allucinante dove le persone sono state private della scelta, io credo che ci sia una sola legge elettorale che funziona, quella dei sindaci. Io scelgo lui, lo voto, se funziona bene, se non funziona dopo 50 domande a casa. Ma niente in ciucci, so che la sera so chi ha vinto, chi ha perso. Invece voi guardate le elezioni oggi hanno vinto sempre tutti. Funzionasse così nel calcio ogni ferentina sarebbe perfetto. Vabbè, torniamo a Berlusconi. Io lo so che il rottamatore che va a pranzo da rottamando crea dei dubbi. Ma quando tu fai il sindaco e l'altro è il presidente del Consiglio dei Ministri, poi tu lo hai votato, ma che vuol dire? E' stato eletto legittimamente presidente del Consiglio dei Ministri. E hai da discutere di quella norma che è contro Firenze, che c'è in altre città ma che a Firenze non si applica, che si chiama tassa di soggiorno. Magari gli abbinatori non saranno contenti. Della Firenze card per i musei. Degli asili nido, che lo Stato non paga pur essendo in parte responsabilità dello Stato. Ecco, io credo che per onore e rispetto della funzione che svolge un giurato sulla Costituzione, articolo 53, mi adempia le mie funzioni con discipline e onore. La parola onore è molto bella, anche se è un po' abusata e troppo legata al passato. Bene, è giusto che io possa correre il rischio di perdere dei voti, ma non di perdere la faccia di andare dai fiorentini a dire ma non potevo rischiare di perdere le primarie per colpa vostra, no. Arriva un momento nel quale bisogna avere il coraggio di essere coerenti con quello che fai. Finché lo stipendio non pagano i fiorentini è doveroso per me. Questo lo dico perché la vicenda di Arcole torna sempre. Ma noi del centro-sinistra abbiamo un'occasione importante, che è quella delle primarie. E nelle primarie non è che fai il concorso di bellezza, non è che fai il concorso di simpatia, presente delle idee per il paese. Se è vero quello che io dico, e cioè che il passato ha tanti insegnamenti da darci, ma non puoi in nome del passato mantenere sempre le stesse facce e quindi devi iniziare da dare segnali di ricambio totale nella casta, segnali di dimezzamento delle indennità e dimezzamento dei numeri parlamentari, intervento sulla burocrazia, intervento sulla giustizia civile, ricambio totale delle politiche economiche e accadere il grande tema dell'infrastruttura culturale, dare l'1% alla cultura sul PIL, ma non continuare a dare i soldi come succede a alcuni film piuttosto che ad altri sulla base delle amicizie, dare in modo trasparente i fondi che liberi sulla cultura, perché la cultura è oggettivamente un motore di sviluppo di una comunità. Bene, se è vero tutto questo, le primarie diventano il luogo nel quale la sfida consente, e vado a terminare, alla politica di essere una cosa che dicevo all'inizio, una cosa bella, ci sono più idee, vinca il migliore, chi vince avrà il compito, il dovere, l'onore e l'onere di andare alle elezioni con quel programma lì, e a quel punto l'alleanza non ti metti a farla, io la faccio con Cell, io la faccio con l'IDV, io la faccio con l'UDC, sembra una sciarada la politica italiana, con tutta una serie di sigle incomprensibili, l'alleanza la fai con cittadini che ti votano, quando ci sono 2-3 milioni di persone che vanno in canzetti e dicono io voto lui, sono loro le persone con cui fai l'alleanza, non le sigle della vecchia politica, e se questo è vero, noi tenteremo di andare alle primarie, rispettando nel caso di sconfitta chi ha vinto, poi si corre per vincere perché l'importante a partecipare è lo slogan da Olimpiadi, quando vai alle elezioni tu provi a vincere, non a partecipare, e lo faremo con molta serenità, lo faremo con il sorriso sulle labbra, lo faremo senza parlare male degli altri, ma parlando bene dell'Italia che verrà. Guardate, è bellissimo fare il sindaco, perché non ti prendi troppo sul serio, perché stai in mezzo alla gente, io racconto sempre nelle presentazioni di Stil Novo, anche per uscire da questa logica di Brunelleschi, perché poi parli di Brunelleschi che fa la cupola, bellissimo, Brunelleschi che ha il coraggio di imporre una innovativa soluzione architettonica che non era mai stata pensata. Oppure pensate ancora alla grandezza di Michelangelo che decide di fare il David in quel modo bellissimo o alla discussione su dove mettere il David in una commissione in cui c'è Leonardo da Vinci, insomma viene i brividi, viene il senso della vertigine quando pensi alla grande storia. Allora, per riportare un po' alla terra, racconto sempre delle figurucce, delle figuracce che a me è capitato di fare dal sindaco. Per esempio, a me quando è nevicato, nel dicembre del 2010, non dico che è accaduta la stessa cosa di Alemanno, perché Alemanno ci ha messo del suo, però a Firenze ci sono stati problemi, si sono bloccate le autostrade, si sono bloccate le ferrovie e mi era venuto voglia di fare una bella conferenza stampa e di dare le conti alle autostrade e alle ferrovie. Ho detto, no, sei il sindaco, e il sindaco non dà la compagniante, se la prende. Quindi sono andato in timpura e ho detto, signori, la responsabilità è mia, la prossima volta faremo meglio. Uscendo il cameraman mi dice, peggio un fuoco fare. Arrivo, arrivo, no, non c'è anche questa, se me la vi gridi era ben uguale, ma c'erano i cartelli in città, Renzi con il saletto, forse ci abbiamo anche detto, o Renzi con il saletto a sparsum se non dice nemmeno l'insalata. Questo è, è vero, eh? Cioè questo è Piazza Beccaria. Allora, per dire, come sei anche preso in giro dalla Foggetti. È normale, è bello, il politico non è un personaggio che sta su Marte, poi sta in mezzo alla strada, prende i nocchini. Magari evitiamo di dare le scorte ai politici, e Massimo mi dà un nocchino. Ho visto Finici a 80.000 euro di 9 agenti a Anselonia, di affist per tutta l'estate, o un assenatico del mio partito che è andato a fare la spesa all'Ikea con la scorta. Cioè, io dico, la scorta, lasciamo ai magistrati che lavorano contro la mafia, non importa darla ai politici. I politici, non so che nessuno, non c'è quello libero. C'è anche il Consiglio. C'è anche il Pubblico, no? Quest'idea dei politici con la scorta che ti danno subito un'immagine di lontananza, no? Allora, io faccio questa figuruccia sulla nevicata e mi rinvoglia immediatamente di migliorare la situazione, anche perché appunto peggiare è possibile. Aspetto una nevicata successiva. Nel frattempo, memore del cartello, c'erano 45 tonnellate di sale, ne compriamo mille. 51 trattori requisiti ai contadini della zona, messe le lame, io in sala operativa della protezione civile, con un microfonino, operazione stand-by, si parte, ha bisogno del tempo, eccetera. Ha nevicato in tutta Italia, prone che in una città. Voi rivedete, ma è drammatico, c'era delle cartine nel tempo, un buco corrispondente più o meno all'area che va da Firenze Sud a Firenze Nord. E una mattina, il giovedì mattina, mentre aspettavo che nevicasse, in piazza signora, ero lì, sperando, pronto a spararla, anziché a spalarla, arriva un vecchietto di piazza della Repubblica, uno di quei signori abituati a vederli per la strada a giro, mi dà una ciaffa da dietro, e io ero lì che guardavo quel leggero nevischio, sperando, e mi fa, ma è che tu guardi? Dice, guarda nevia, altre neve, queste le forfora, vien via. Allora, per dire che se fai il sindaco, se fai politica, se fai... stai in mezzo alla gente, te le prendi anche gli insulti, però devi avere un grande dono, e una grande possibilità, che è quella di fare ciò che dici. io ho fatto l'elenco delle cose che volevo fare in città, e quando si è trattato di decidere, a costo di perdere voti, si è deciso. Firenze erano 40 anni, si discuteva della tramvia o del bus in piazza del Duomo. Noi abbiamo pedonalizzato nel giro di un mese, è stata la mia fortuna, perché non ci hanno creduto. Io era appena arrivato, ho detto si pedonalizza. mi hanno dato quei 20 giorni in cui non se ne sono accorti, non sto scherzando, e si è pedonalizzato, punto, basta, chiusa la discussione. Perché a un certo punto bisogna avere il coraggio di fare le cose. Non puoi continuare a rimandare, a vendiare. Allora, queste sono le due caratteristiche. E noi cercheremo, sulle singole partite, di fare la stessa cosa, di dire quello che vogliamo fare, con serenità, con tranquillità, con la franchezza di chi dice cose anche che possono non essere apprezzate. Uno diceva, questa cosa qui non mi garba con ti vuoto. Amici, come prima. Lo faremo, però, senza pensare di essere i supereroi. Lo dicevo all'inizio. C'è una musicina, c'è la musicina, Franco. Il supereroe, noi siamo una generazione cresciuta, lo dico a quelli della mia età, con il mito del supereroe. Il mito del supereroe è quello che ha portato, che so, a crescere con i cartoni animati giapponesi. Vi ricordate? Mazinga, chi diceva signora? Goldrake. Goldrake. O, per esempio, se c'è già i UFO robot, è l'idea di un meccanismo per il quale il problema te lo risolve uno dall'altro, con la bacchetta magica. Se ci pensate, anche Berlusconi ha fatto questo. ha detto che pensi mi. E nel dire che pensi mi, ha affermato il modello UFO robot in ventesa. Vi ricordate? L'idea che la politica si trasformi in un gazomissile, l'idea che la politica abbia un personaggio che da solo decide tutto, non funziona. La politica funziona se le donne e gli uomini di questo paese smettono di pensare che la cosa pubblica possa essere lasciata a qualcuno, chiunque sia. E provano a mettersi in gioco. Ecco perché le primarie sono una grande occasione. E provano a dire, io in questa cosa qui ci credo, ci dedico del tempo, ci provo. Se va bene, bene. Se va male, ho fatto il mio dovere. È l'unico modo serio che abbiamo perché restituire dignità e orgoglio e onore e speranza alla parola politica passi da una cosa concreta. Con questo spirito ci dicono, ma voi a meno di 40 anni volete governare l'Italia. Sì. Eroganza? Sì. È l'unismo? No. È l'idea. È l'idea che uno offra. La propria disponibilità preferiscono altro. Rispettiamo gli italiani. Non è come quelli che dicono quando perdono le elezioni, eh, ma gli elettori non ci hanno capito. No, sei flucchi e non hai capito gli elettori. Se hai perso, noi pensiamo che ci sia bisogno di un cambiamento radicale, profondo, basato su dei valori. Se non abbiamo ragione o non siamo rivelati, con molta serenità, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto o, al massimo, proveremo l'ebrezza di tornare al lavoro come abbiamo sempre fatto perché veniamo dal lavoro che ho privato. Perché anche questo è importante. basta con la logica che chi inizia a fare politica continua a fare politica per sempre e quando perde c'ha sempre un'azienda municipalizzata o qualcosa che c'è. Se noi vinciamo, proveremo serenamente a cambiare imprese. Se noi perdiamo, daremo una mano a chi ha vinto perché queste sono le regole del gioco della libertà e anche, come posso dire, della trasparenza della cosa pubblica. In ogni caso, il mio augurio che mi faccia dal profondo del cuore è che questo stile nuovo, che questa rivoluzione della bellezza, passi anche da voi. Non mi interessa se andate a votare alle primarie o no o per chi voserete alle elezioni. Mi interessa l'idea che in questo paese in cui tutti ci dicono che le cose vanno male, che non c'è speranza, che il futuro non minaccia, che il domani è un pericolo, che andremo tutti a carte 48, beh, ci sia chi, umilmente e serenamente, prova a tirarsi sulle maniche e dice io ci sono e mi metto in gioco. Io ci sono e voglio bene all'Italia, io ci sono e provo a far sì che questo paese sia un paese migliore, non tanto per me ma per i miei figli perché, ricordiamocelo, noi non abbiamo, e lo dico dopo aver parlato di un libro che tratta da Machiavelli a Pinocchio, da Savonarola a Dante, da Galileo a Leonardo, alcuni dei più grandi personaggi del passato. Bene, noi non abbiamo ricevuto Firenze e Italia in eredità da Dante e da Leonardo, no. Noi l'abbiamo preso in prestito dai nipoti che ancora non conosciamo. E' a loro che, con senso di responsabilità, dobbiamo consegnare un'Italia più bella. E per farlo, credetemi, la politica non è una parolaccia come sempre. In bocca all'uomo. Grazie. 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 Grazie.